Nella settimana di Ferragosto in tutta l'Italia, dal nord al centro al sud, in quattro giorni sono accaduti sei episodi di aggressioni agli operatori sanitari. Questo ha testimonianza che sebbene in regione, come dice il Presidente, giochiamo una partita di calcio con sette giocatori contro undici ad assicurare i servizi sanitari, il tema non è solo pugliese, è un tema di carattere nazionale. L'attenzione sul tema delle aggressioni al personale medico-sanitario deve rimanere alta ed è giunto il momento di prendere impegni precisi per la tutela dell'incolumità di tutte le figure professionali impegnate nei presidi ospedalieri, da quelle operative sulle ambulanze del 118 agli operatori sanità service, dai dipendenti dell'asile di Foggia agli impiegati della vigilanza. Queste le ragioni alla base della mobilitazione svoltasi nelle scorse ore nei pressi dell'ospedale riuniti di Foggia, organizzata dalle sigle sindacali che rappresentano gli interessi delle categorie di lavoratori coinvolte. C'è qualche azione che lei ritiene che può essere messa in campo sin da subito e che ancora sta tardando ad arrivare? Secondo me bisogna essere molto profondi in questo momento, nel senso che bisogna ricercare tutte le cause che possono far sprigionare atti di violenza da parte dell'utenza. Ecco, cercando e trovando tutte le cause vorre rimedi a ciascuno di esse. Continua il malessere, quali sono le richieste e le proposte di oggi? Continua il malessere, una su tutte è battere su quella che è la carenza di personale, che è un problema atavico, e che secondo me e secondo noi è assolutamente il problema principale sul quale poi ricadono tante altre problematiche che innescano questo circolo vizioso di demanzionamenti, frustrazioni lavorative del personale sanitario che inevitabilmente si ripercuote sull'utenza, come dicevo, creando questo circolo vizioso dal quale bisogna uscirne.